Avete presente i booster, i motorini che usano i ragazzi per andare a scuola, comunque alle superiori? I classici booster, quelli che a secco pesano più o meno 70 kg, insomma. Questo ragazzo se ne lega ben 3 alla vita e ci fa dip alle parallele. Stiamo parlando di Valerio Naldi, un ragazzo che conosco abbastanza bene, nonché un mio amico, e che è stato il primo uomo al mondo, ragazzi al mondo, a zavorrare 200 kg nel dip alle parallele. Quindi, essendo mio amico, ne ho approfittato per fargli qualche domanda e spiegarvi bene chi è questo soggetto, questo alieno. La prima cosa, direi di andare a vedere la sua performance clamorosa, ragazzi, clamorosa. Voi... 200 kg sono... Su! Sono tantissimi. Sono... Tanti... È una cosa folle, ragazzi, è una cosa... Questa è una cosa folle. Questa è una cosa folle. Guardate quanti dischi stava tenendo. Quanti, ragazzi, sono 200 kg questi. Allora, Valerio si allena dal circa 2015-2016, quindi facciamo un 9 anni per semplificarci un attimino i conti. E quando partì ad allenarsi nel parchetto lì vicino a casa sua, lui zavorrava e basta. Ovvero è partito con l'intento di diventare forte nelle zavorre e pesava, pensate un po', 70 kg. Ha un'altezza di 195 centimetri. Ebbene sì, era HP-25. Una folata di vento e poteva essere portato via, per intenderci, ok? La sua prima gara è stata nel 2018, dove fece circa una novantina di chili nel dip zavorrato. Quindi una performance che al tempo era ottima, eccellente, ma che ora, paragonata ai 200 kg che ha appena fatto, è il nulla più totale. Per arrivare a fare questi chili, ovviamente, bisogna essere matti come dei cavalli, però allo stesso tempo bisogna avere una consapevolezza in quello che si sta facendo che in pochissime persone al mondo hanno. Sostanzialmente, ragazzi, voi provate ad andare in palestra, perché probabilmente ancora non ci si rende conto di quanti siano 200 kg fatti in questo modo. Andate in palestra, mettetevi su delle parallele senza legarvi 200 kg alla vita, ma anche soltanto basta un disco da 20, un paio di dischi da 20, provate a fare un dip così a corpo libero. Ecco, voi immaginatevi cosa possa voler dire attaccarsi 200 kg alla cintura e fare quel movimento. Da qui, ovviamente, mi sorge un dubbio, perché se è partito facendo 90 kg di dip, quando è che si è reso conto di poter fare una performance del genere? E quindi, appunto, gli ho fatto questa domanda. La sua risposta è stata, e qui vi cito proprio il suo messaggio, Penso quando feci 160 kg di dip a circa 100 kg di peso corporeo, dicembre 2022. Sapevo di avere margine a quel bodyweight per arrivare a 170-175 kg di zavorra. Prendere peso corporeo sicuramente mi avrebbe dato una mano, quindi mi resi conto che era fattibile fare 200 kg prima o poi. Ragazzi, prima o poi, perché nessuno pensava che chiunque potesse arrivare a questi kg, ok? Stiamo parlando comunque di un movimento già di suo complesso, con una secchiata di kg, una cosa fuori di testa, ok? Cioè, fuori di testa questa cosa. Quindi, ora, la prossima domanda che gli ho fatto è stata Ma, Valerio, come hai fatto ad arrivare a questa performance da Natural? Perché è una cosa fuori di testa, ok? Veramente è una cosa fuori di testa. E io qui sono sicuro che lui sia a pane e acqua, perché lo conosco, ok? Lo conosco bene, e anche poi le sue risposte che mi ha dato mi hanno tolto, ovviamente, ogni dubbio, anche che potesse sorgermi nell'anticamera del cervello, ok? Perché, parliamoci chiaro, è possibile farli da Natural? Sì, ma non è possibile per tutti. Valerio è uno su un milione, ok? Uno su un milione. Quindi, la sua risposta alla mia domanda, magari potrebbe, diciamo, risvegliare qualche coscienza e farci scoprire un altro fenomeno chissà dove. Però, ovviamente, è Valerio, è uno. È uno soltanto e abbiamo la fortuna di averlo qua da noi in Italia, ok? Ragazzi, questa è una fortuna incredibile. Quindi, citandovi ancora la sua risposta alla mia domanda del come è fatto a raggiungere questo peso senza mettere mano alle farmacie, sono diventato, lui dice, grasso, perché ovviamente ha dovuto mettere un po' di massa grassa apposta, per ricercare questo numero. Quindi, da Natural, direi che arrivare a questo peso corporeo ha fatto tantissimo. Ovviamente, Valerio dice questo perché lui ha 200 kg, prima o poi comunque ci sarebbe arrivato anche un bodyweight inferiore. Ovviamente, affrontando delle difficoltà ben diverse da quelle che ha dovuto affrontare ora a circa 125 kg di peso corporeo. A confermare, comunque, questa mia tesi del Valerio è Natural, Valerio è alieno, è che nelle gare di streetlifting ci sono quattro movimenti, ok? Due movimenti di tirata alla sbarra, nonché le trazioni e il muscle-up, entrambe con la zavorra. Il dip e lo squat. Valerio ci ha tenuto a sottolineare che in queste condizioni fisiche lui non riuscirebbe ad affrontare, probabilmente al massimo delle sue potenzialità, una gara su quattro movimenti, perché è fortemente penalizzato nei primi due dal peso corporeo così elevato. Quindi, questa condizione che lui ha raggiunto per fare 200 kg di dip è una condizione che si può dire da specialista, replicabile magari non tante volte, e proprio ricercata per questo tipo di performance nello specifico. Ci tengo a sottolineare che 200 kg sono un macello di chili, ok? Io attualmente non li faccio neanche in panca e mi alleno come un drago, però so che comunque anche te vorresti allenarti come un drago, quindi qua sotto in bio ti lascio il link per i miei programmi di allenamento e chissà magari potremmo scoprire un nuovo Valerio Naldi in futuro, perché ti sarai allenato con dei programmi fatti proprio ad hoc per farti diventare fortissimo! E oltre ovviamente al link per i programmi vi lascio anche il tag di Valerio su Instagram, che quel testone non vuole mettersi a fare le cose fatte bene, magari vedendo che c'è un pubblico che lo sprona potrebbe impegnarsi un po' di più. Quindi mi raccomando andate anche a vederlo su Instagram che è una lì. Rack a gabbia solidissimo, panca da competizione, dischi omologati da competizione e una vastissima gamma di bilancieri. Tutto questo mi ha permesso di qualificarmi a un mondiale e un europeo. Quindi, dato che anche tu vuoi allenarti con attrezzatura professionale, corri su Strandshop, codice sconto, liste, risparmia e allenati come un professionista.